Signori ci siamo, oggi è martedì, è il giorno di Milan-Napoli, andiamo con la sigla e scopriamo un po' chi affronteremo stasera. Allora signori, innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi, buon martedì a tutti voi, benvenuti, anzi bentornati per i vecchi e benvenuti per i nuovi sul canale e se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi perché è totalmente gratis. Allora, oggi doppio video, evento speciale perché stasera ci sarà anche il post partita, sperando stasera di non commentare un qualcosa di altamente bestemmioso. Nell'attesa della partita vediamo un po', facciamo il pre, facciamo il pre partita, vediamo un po' che squadra è il Milan e quindi cambiamo un po' la grafica e partiamo. Allora, premessa molto importante, tutti i dati e tutte le grafiche che vedrete saranno con l'asterisco perché il Milan non ha giocato l'ultima partita a Bologna quindi ha una partita in meno rispetto a tutti gli altri, quindi tenete conto di questa cosa quando vedrete i vari dati. Allora, cominciamo dalle classifiche. Io stavolta non ho voluto mettere la classifica classica, quella a base, ho voluto mettere la classifica dei rendimenti in casa e in trasferta. Quella dove c'è il Milan è ovviamente la classifica del rendimento in casa perché il Milan gioca in casa. E come potete vedere il Milan in casa è la quinta miglior squadra per rendimento con 10 punti raccolti. Quindi è imbattuta al momento a San Siro e questa è una cosa importante da tener conto, così come sono importanti secondo me i dati sui gol fatti e specialmente i gol subiti. Il Milan in casa ha fatto ben 10 gol in 4 partite, quindi una media di 2,5 più o meno. I gol subiti però sono molto pochi, 2, soltanto 2 gol presi in 4 partite in casa, quindi il Milan in casa dal punto di vista difensivo è più efficace rispetto alla trasferta. E quindi diciamo che tutto sommato il Milan in casa sta facendo abbastanza bene. Sotto invece abbiamo il rendimento del Napoli in trasferta. 7 punti collezionati, è la quarta miglior squadra per rendimento in trasferta, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. 5 gol fatti, 3 gol subiti. Quindi il Napoli in trasferta diciamo che fa un po' più fatica nella fase offensiva perché una media di poco più di un gol a partita, mentre in difesa tutto sommato efficace come il Milan in casa. Quindi da una parte abbiamo una squadra che segna abbastanza, dall'altra parte invece abbiamo una squadra che prende pochi gol in trasferta ma che ne fa anche pochi. Quindi questi numeri potrebbero già farci pensare a un under. Andiamo un po' più nel profondo e vediamo i dati del Milan. Allora il Milan in campionato ha fatto 16 gol, è il sesto miglior attacco attualmente. Ha fatto bene o male un pochino meglio rispetto agli XG, 14,6. Ha fatto un gol in più di quello che ci si aspettava. In difesa bene o male i dati rispecchiano quello che si è visto sul campo. 9 gol subiti, quindi quarta miglior difesa e un XG subiti di 8,1. Quindi bene o male il Milan ha fatto quello che ci si aspettava sul campo. In casa il Milan, come vi ho fatto vedere prima, 10 gol fatti ed è il sesto miglior attacco in casa. Mentre è la seconda miglior difesa in casa. Sotto poi vi ho messo la forma partita. E come potete vedere ragazzi, il Milan è una squadra che va diciamo a tratti, va a momenti. Quindi pareggia con la Lazio, vince contro il Venezia, poi arriva il Tonfo con Liverpool. Batte l'Inter, batte Lecce, poi arrivano i Tonfi contro Leverkusen e Fiorentina. E poi batte Udinese e Club Bruges. E tra parentesi queste ultime due vittorie, vittorie arrivate con un po' di fatica. Especialmente quelle contro l'Udinese. Quindi il Milan è una squadra che non ha una continuità. Dall'altra parte invece sappiamo esserci il Napoli che ha trovato la sua continuità e che ha trovato delle sue certezze. Allora, dati un po' generali sulla fase difensiva del Milan. Allora, il Milan diciamo che come potete vedere è ultimo o quasi in tante statistiche. È la quinta squadra che subisce meno tiri in porta, 28. È ultima per contrasti fatti ed è penultima per contrasti vinti. E attenzione, la maggior parte dei contrasti vinti sono stati vinti nella tre quarti offensiva. Infatti il Milan è la decima squadra per contrasti nella tre quarti offensiva. E questo ci deve far pensare a cosa? Ha evidentemente un pressing alto. Sono ultimi anche per falli commessi. Quindi è una squadra che pensa a giocare. Ultimi anche per recuperi palla. E ultimi anche per due l'aeri persi. Ma ultimi in questo caso vuol dire che sono i migliori. Cioè sono la squadra che perdono meno due l'aeri in Serie A. E poi il dato sulle espulsioni. Terzi per espulsioni fatte ben tre. Quindi tutto sommato. Il Milan dal punto di vista della fase difensiva è una squadra che ha qualche problemino. Mettiamola così. I numeri offensivi invece sono tutt'altra storia. Sono quarti per tini in porta fatti. Terzi per percentuali di passaggi completati. Ma sono anche decimi per passaggi fatti. Quindi non sono proprio una squadra che fa del tiki tag al suo punto di forza. Settimi per cross. E attenzione poi a questo dato. Sono terzi per grandi occasioni create. Ma sono anche terzi per grandi occasioni mancate. Quindi che vuol dire che il Milan crea tanto. Ma è anche sprecone. Sono poi diciottesimi per due lì aerei vinti. Hanno segnato quattro rigori. E attenzione a questo dato ragazzi. Perché Fonseca nella conferenza stampa si è lamentato un pochettino dell'arbitraggio. E attenzione. E poi ultimo dato. Settimi per possesso palla. Quindi il Milan diciamo è una squadra che non fa del tiki tag al suo punto di forza. Però dal punto di vista offensivo si comportano abbastanza bene. Quindi andando a sintetizzare il Milan in difesa balla un pochettino. In attacco invece sono molto efficaci e sono pericolosi. Ma allo stesso tempo anche un po' spregoni. Ora vi voglio far vedere un po' le posizioni medie del Milan. Nelle ultime due partite giocate in casa. Quelle contro l'Udinese a sinistra e quelle contro il Bruges a destra. Vi ho messo queste immagini per vedere un po' come si comporta la difesa. Ora, in entrambe le partite il Milan ha vinto. Con l'Udinese 1-0, col Bruges 3-1. Però il Milan contro l'Udinese dal 29esimo in poi ha giocato con un'espulsione. Si è fatta espellere Reinders. Contro il Bruges invece il Milan ha giocato contro una squadra che nel secondo tempo ha avuto un'espulsione. Quindi, com'è stato l'atteggiamento difensivo nelle due partite? L'immagine dell'Udinese potrebbe trarre in inganno. Perché qualcuno vede, che ne so, vede i difensori quasi a ridosso le aree di rigore. Quindi potrebbero pensare che il Milan contro l'Udinese si è schierata con un blocco basso. Non è così ragazzi, perché qui trae in inganno l'espulsione. Il Milan in realtà è stato molto alto. Quasi simile all'atteggiamento contro il Bruges. Con i difensori sulla nida del cerchio di centrocampo. Quindi il Milan è una squadra che dal punto di vista difensivo attua un blocco alto. L'altra cosa importante da notare è il numero di calciatori oltre la metà campo difensiva. Contro l'Udinese abbiamo il 29, cioè Fofanà, proprio sul cerchio di centrocampo. E Fofanà è in teoria l'equilibratore, cioè quel centrocampista che sta dietro a difendere. Quindi diciamo che il Milan attacca con sei calciatori, difende con i due centrali, il terzino destro e Fofanà che è il mediano, diciamo quello un po' più difensivo. Con l'Udinese cinque calciatori oltre la linea del centrocampo contro il Bruges addirittura ne abbiamo sei. Però con sempre il mediano il 29 e il 22 che è emerso in Real un po' più dietro rispetto agli altri. Quindi il Milan in fase difensiva blocco alto, quindi pressing nella metà campo avversaria, tanti giocatori nella metà campo avversaria. Se però noi pensiamo al dato dei contrasti che vi ho fatto vedere prima e il dato dei recuperi palla, allora mi vengo a pensare che magari il Milan è una squadra che attacca, attacca però nei contropiedi. Quando deve subire le ripartenze è abbastanza perforabile. E quindi qui ragazzi dico quello che secondo me sarà il canovaccio della partita. Secondo me il Napoli stasera si schiererà a basso, concederà il campo, concederà il possesso al Milan, cercherà di chiudere i vari spazi, cercherà di intercettare, di sporcare le linee di passaggio e cercherà di colpire in contropiede. Quindi io oggi mi aspetto un Napoli che sta dietro, aspetta l'errore e riparte in contropiede. Non mi aspetto sinceramente un Napoli che va lì a giocarsela, ok? Anche perché abbiamo visto che comunque il Napoli in trasferta gioca con un atteggiamento un po' più prudente, mettiamola così. Detto questo ragazzi vediamo le probabili formazioni. Allora per il Napoli io non mi aspetto assolutamente turnover, mi aspetto il blocco dei titolarissimi. Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno Olivera in difesa, non penso proprio che questa possa essere la partita per Spinazzola. Gilmour perché ci hanno detto che Lobotka non ha recuperato, non è nemmeno partito per Milano, quindi ci sarà Gilmour. Mezzalian, chissà, Mectomeni, davanti ovviamente mi aspetto il ritorno di Politano che in questa partita sarà a mio avviso fondamentale. Mi aspetto il ritorno di Kvara e mi aspetto davanti un Lukaku. Anche se in realtà potrebbe avere un senso Simeone stasera. Perché come abbiamo detto prima il Milan si schiera col blocco alto, quindi potrebbe lasciare degli spazi dietro. Spazi che potrebbero essere attaccati da Simeone, che dal punto di vista del giocare in profondità è messo meglio di Lukaku. Lo stesso Lukaku magari potrebbe fare bene stasera perché avendo una squadra che appunto giova col blocco alto, se parte in linea con i difensori potrebbe essere pericoloso. Questa dovrebbe essere la formazione del Milan. Lasciate stare sopra che c'è scritto Napoli e Lecce, però mi sono scontato di cambiarlo. Il Milan dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 però a mio avviso parecchio sbilanciato. Abbiamo ovviamente Mignan in porta. Il Milan ha tanti indisponibili. Non ci sarà Gabbia, non ci sarà Reinders, non ci sarà Teo Hernandez. Leao dovrebbe partire dalla panchina. Si parla anche di un Calabria che potrebbe giocare a sinistra, però non lo so. Comunque, le probabili formazioni sono queste. Mignan, Emerson Royal, Ciao, Pavlovich, Terracciano, Pofana, Loftus-Cic in mediana e davanti Cucuèze, Pulisic, Okafor alle spalle di Morata. Ora a me questo Loftus-Cic messo in mediana non convince tantissimo, così come non convince Terracciano. Ovviamente, occhio a Pulisic, che è il giocatore più pericoloso. Occhio alla catena di sinistra, perché comunque il Milan attacca con la catena di sinistra. Dove può far male il Napoli? Secondo me, sulla zona destra loro. Il duello Royal-Cvara potrebbe essere un duello decisivo. Loftus, ripeto, non mi convince quella posizione. Quindi, secondo me, il Napoli potrebbe trovare le sue fortune attaccando la catena di destra del Milan. Detto questo, ragazzi, voglio chiudere il video dicendo una cosa. Allora, stasera è una tripla. Si può perdere, si può vincere, si può pareggiare. Io personalmente mi aspetto un pareggio. Mi aspetto un pareggio con poche reti. Uno a uno, esagerando. Mi aspetto di vedere una cosa stasera. Mi aspetto di vedere un conte un po' più coraggioso con le sue scelte e con le sue decisioni. Noi, l'unico precedente, diciamo, a livello di big match è stato con la Juve. E con la Juve si è visto comunque un conte che si è accontentato del pareggio e ha voluto rischiare veramente poco. Io stasera vorrei vedere un miglioramento sotto questo punto di vista. Vorrei vedere un conte che mi fa dire si è visto comunque che voleva vincerla questa partita. Si vede che ha provato a vincerla, non si è accontentato. Io non mi aspetto necessariamente la vittoria, però mi aspetto la volontà, la voglia di andarla a vincerla e non di accontentarsi del pareggio, ok? Anche perché il Milan non è la Juve. Possiamo anche, per esempio, pareggiarla, possiamo anche perderla. Però vorrei vedere un Napoli che ci prova, che vuole andarla a vincerla seriamente. Poi magari non ci riesce, pazienza. Ma io stasera, nel post partita, vorrei venire qui e dire ho visto un conte e un Napoli che volevano vincerla questa partita. E non vorrei tornare qui a dire, a ripetere quello che ho detto contro la Juve. Cioè, ci siamo accontentati del punticino. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Se volete nei commenti, nei commenti, fatemi un vostro pronostico, se siete così coraggiosi. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Ovviamente ditemi un po' la vostra nei commenti, cosa vi aspettate, le vostre sensazioni, le vostre paure e speranze in merito a Milan-Napoli. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Buon proseguimento di martedì. Noi ci vediamo stasera e sempre e comunque, forza Napoli!